Siamo tornati spesso qui a Rocca Costanza a parlare del viaggio, in questo caso di un viaggio errante, di un viaggio apparentemente senza meta e senza direzione. Sì, intanto salve a tutti, è sempre un piacere tornare a Pop Sofia. Il viaggio forse più interessante è quello che non arriva mai a destinazione, oppure che finisce, come ci aspettiamo, in un naufragio. Quale eroe migliore per l'Occidente di Ulisse? Ulisse, che noi sappiamo, arriva alla Itaca, poi se ne va, si stufa, se ne va e ritorna ad andare in giro, finché padre Dante lo fa naufragare, non so quanto felicemente, di fronte alla montagna del Purgatorio. E allora, però Ulisse non muore, Ulisse rinasce, rinasce in altre figure, in altri personaggi. Visto che voi praticate l'arte della contaminazione, Ulisse rinasce col nome di Leopold Bloom a Dublino, fa ogni giorno la sua odissea, la mattina dopo il suo viaggio ricomincerà, ed è nello stesso tempo greco-ebreo o ebreo-greco, perché è un fenicio, uno che fiende la fenicia, forse un ebreo, forse l'ebreo-eorante, forse Ulisse è sempre in cerca di una meta che non lo soddisfa mai, e che impara, non so quanto, dai propri errori. Perché l'eorante è anche chi sbaglia, e dagli propri sbagli dovrebbe riuscire a trovare un senso di quello che ha compiuto. Bellissima lezione, no? Impariamo dai nostri errori, ce l'hanno ripetuto Ersmack, Karl Popper, Albert Einstein, un mucchio di grandi scienziati. E se mi recito una battuta, con cui chiudo, c'è un bellissimo pagina divertente di Dracula il vampiro, di Bram Stoker, dove il dottor Van Helsing, dopo che per cinque volte Dracula gli ha succhiato cinque vittime, lasciando le stese senza sangue, dice dobbiamo imparare dai nostri errori. Quindi il dottor Van Helsing era un popperiano, antelitteram, no? Dal romanzo di Bram Stoker. E il fatto è che, una piccola domanda resta, è bello imparare dagli errori, però sarebbe meglio imparare non dai propri, bensì da quelli degli altri, molto più economico. Poi Bodei dirà le cose serie, ecco, io ho finito.